Non sa quante volte gli ho detto di lasciar perdere quelle stupide partite di calcio, ma era inutile. Sembrava che non potesse farne a meno. Ehi, Michael, torna subito qui. Non devi nemmeno mischiarti a quei delinquenti. Su, dai, che siamo in ritardo. Guarda come si danno da fare, signori. Sembrano degli sciacalli. Siamo diventati famosi, apparire a mente la visione. Che bella soddisfazione. Certo, ragazzi. Sarà il processo del secolo. Ormai non mi aspettavo più che arrivasse. Lo so, ho fatto tardi. E come ti va? Ha sempre la solita vita. Non voglio finire dentro.